Sai disegnare? No. So fare solo questi ritratti. Ho imparato quello che mi serviva. A cosa? A ricordare il volto dell'uomo che ha ucciso mio padre. E' successo quasi dieci anni fa. Ero con lui la mattina in cui è morto. Papà mi aveva portato a raccogliere i funghi. L'ha investito e poi è scappato. L'ho visto, ma solo per un attimo. Ed ero l'unica testimone, ma la sua faccia non sono mai riuscita a ricordarla. Perciò non l'hanno mai trovata. A volte penso alla vita di quell'uomo, sai? Magari si è sposato a una moglie dei figli. Un lavoro, una casa, un cane. Una vita normale. Ma la sua vita è un inferno, sono sicuro. E' una stronzata. Le persone dimenticano le cose brutte. Io invece me le ricordo. Tutte. Grazie. Grazie. Grazie a tutti